...tanto peggio di una povera squattera. Ti conviene avere un ottimo motivo. Cosa? Lei che cosa ci fa qui? Anch'io vivo qui, sbullonata. Ma che succede? Per merito della salvatrice, il sole ha fatto luce sull'incursione di Scavazzanna. I ribelli Tenakt possedevano dei ricinti di macchine dall'altra parte delle montagne. Una voragine li ha risucchiati e sono stati trascinati nei tunnel sotterranei che conducono est fino al timore. Allora è stato un incidente, ma voglio ricordarvi che sono stati i Carja. Non ho finito. La voragine è stata provocata da scavi non autorizzati nella miniera meridionale. Ulbund, tu sei responsabile dell'invasione di macchine, della morte degli operai e di tutte le devastazioni avvenute dopo. Di tutto quanto. Caro magistrato, per caso hai preso un colpo di sole di troppo? Non avrei mai dato un ordine simile senza consultarti. Le prove dicono il contrario. Aloy ha trovato una nota di carico nella miniera. Hai aggirato le leggi del dominio, Ulbund. È tutto solo per qualche frammento. E stavi per far annegare gli altri tuoi minatori e non contiamo il fatto che hai mandato laggiù quel dannato bestione per minacciare dei rifugiati. Io esigo un'indagine ufficiale. Non sarò mai vittima di un subdolo intrigo dei Carja. Certamente. Istituirò un'inchiesta approfondita su tutto. Gli escavazzanna, la miniera, i rifugiati. Ogni accordo commerciale su cui ci sia scritto il tuo nome. Non... Non sarò necessario, vero? E se invece me ne tornassi alla conquista? Ah ah ah! Beh, per la corona quello sarebbe un vero risparmio. Ma certo. Partirò non appena avrò concluso degli impegni già presi, risolto delle questioni. D'altra parte, il benessere di Aspra Catena in una transizione come questa... No, invece te ne vai subito. Aspra Catena se la caverà. Davvero affideresti questa sottospecie di discarica a lei? Ah! Ti auguro un peggio. Fattene! Boo! Non ti vogliamo! Non ti salvi! Non passa, Orgol! Non ti salvi! Gli sta bene! Ne va! Il fango ti dona molto, Orgol! Proprio come il sole dissolve le ombre. Grazie per l'aiuto, Aloy. Se lo meritava. Tieni. Voglio darti questo dono per ringraziarti. Hai reso al dominio e al sottoscritto un grande servizio. E noi due dobbiamo parlare di molte cose. Sì, è vero. Non è un ruolo semplice da ricoprire. Ma lo farò. Grazie a te chi ama di fuoco. Chi ama di fuoco. Campioni nuove. Aspra Catena starà meglio. Con Petra al comando. Ehm, c'è qualcosa da farmi, dice. Ah, sto coso della fossa. Allora, Brigham. Quanti mio? Sei? Sei. Infiltratrice. Quasi è questo qua in zona. Ehm. Quasi è questo. Quasi è questo qua. ma questo cos'è? se inizio su infligio più danni, questo servirebbe potenziatore che sono eh, contratti di recupero sai che mi sa che avevo una cosa per il vestitore di abiti non mi ricordo se era questo no, infatti potenza o difesa? cosa sceglierai? ci siamo liberati di olbo ne lo sono aperto che peccato io l'ho saltato il completo viaggio veloce gratis devo andare devo andare qua dietro a chi era forse qua era sai che signor e non ci siamo non ci siamo Tu c'hai? Allora, quello di vestiti? Lui poi salvo e poi al massimo continuo domani. Sì, questo. Diffusore? Ah, perché non ho il film di movie. E nulla. Cos'è quello? Armi. Ehm, anche la caccia. Caccia. Abiti. Pantini nuori. E blasone. Bambini tessuti. E risorse, non soldi. Sì. Vendi. Già. Aspetta che c'è qualcosa altro. Che fa per te? Niente, non passava niente. Non sapevo già che sia il film di movie. Invece, no. Sì, grazie. Sì, grazie. Forse c'è qualcosa da riparare. C'è da potenziare, scusa. Potenziamento abito? Questa è quella A. Questa è quella A. Cos'è che è stata? Ehm, ok. È stata rifiuta nel combattimento a distanza. Quindi mettendo questo. Pensate, per la fruttività, il combattimento a distanza. Ehm, non ci vede. E c'è un orago. C'è un orso di toccato, i conigli. C'è tutte e due hanno due. C'è bisogno di un orso di toccato, i conigli. osso di coniglio, pelle di coniglio, pelle di coniglio, per fare cosa, questo a livello 2? osso di marmotte, pelle di coniglio, pelle di ricetta, e la tornata, via, che cazzo sta, la nostra ricetta è tornata, e niente, dov'è il così, ritorno dovevo prima, dice che c'hanno qualcosa di nuovo, lancia colate, e mi si compie, guarda, c'è non tarsi l'altro, eh no, è una cosa arco di precisione, non comune, io che cosa che c'ho, arco non comune, c'ho, strumenti, pochettino di mi piacerebbe, guarda che mi costa, ma che ne sono 30 e 50, 1000, va bene, almeno ce le ho, invece c'è un botto di roba torna presto, è tutta intera, cacciatrice fa il viaggio rapido, dove è arrivato io? eh, fa lo sconosciuto, fai cosa, fai qua, allora viaggio rapido ok, ma salvo a posto ok, ma salvo